Ogni volta che qualcuno cerca di vincere una guerra, prima che inizi, muoiono innocenti. Ogni volta. Stark, sì. Per nessuna ragione dobbiamo portare la gemma del tempo da Thanos. Credo che tu non abbia capito cosa c'è in gioco qui. Sei tu che forse non capisci che Thanos è rimasto nella mia testa per sei anni, da quando inviò un esercito a New York ed ora è tornato. E io non so cosa fare. Perciò non so se il piano migliore sia combatterlo sul nostro terreno o il suo, ma tu hai visto che cosa ha fatto, che cosa può fare. Sul suo terreno non se lo aspetterebbe. Allora dico meglio combattere da lui. Dottore. Sei grosso con l'arbatura. Tolta quella che cosa sei. Io sono quello che ha ucciso gli Avengers. Ho visto, non l'ho detto come potevo. Li ho visti tutti morti e l'ho percepito. Il mondo è vero. Per causa mia. Non ero pronto. Non ho fatto quello che potevo. Avresti potuto salvare? È meglio essere temuti o rispettati? Io dico, è troppo chiedere entrambe le cose. Grazie per avermi seguito. Non sprecare. Non sprecare la tua fede. Mica cosa per cui combatti è te stesso. Non sei il tipo che ho dato il sacrificio. Finalmente ora so che cosa devo fare. E so nel mio cuore che è giusto. Quello è il demover. Come pensavate di sconfiggerlo? Insieme. Perderemo. Allora faremo anche quello insieme. Non è questa la missione? Non è il motivo per cui combattiamo? Per non combattere più e per poter tornare a casa? Lei crede di combattere per me. Lei combatte per se stesso. Aspetta! Risparmi allora. E io ti consiglierò il cerno. Torni. Non c'era altro modo. Il pericolo è imminente e devo proteggere l'unica cosa senza la quale non vivrei. Sei tu. Lo sai che io ero l'unico che credeva in te e tutti gli altri mi dicevano che era un pazzo voler reclutare un quattordicenne. Volevo essere come lei. Ottimo lavoro. E io volevo che tu fossi migliore. Se fosse morto qualcuno tutt'altra storia, no? Sarebbe stata colpa tua. Se fossi morto se fossi morto mi sarei sentito in colpa io. Non mi sento molto bene. Stai bene. Non so che mi succede. Non lo so. Lui è mio amico. Lo ero anche. Questo non cambierà quello che è successo. Non mi importa. Ho ucciso mia madre. Quello che ora è arriverà sempre la mia più grande creazione. Sì. Noi creiamo i nostri tempi. E così il mio viaggio è raggiunto alla fine. Ma c'è una cosa che nessuno mi toglierà di lei. che nessuno mi toglierà di lei. Sì.